Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti in questa, ebbene si, ultima puntata di Cominciamo Bene E anche per questa rubrica siamo arrivati al giorno finale Il giorno dell'ultima puntata, e come sempre voglio finire in un modo un po' diverso dal solito Quindi nella seconda parte di oggi farò un qualcosa un po' diverso dal solito, poi vedrete Mentre invece nella parte consueta Pokémon Analysis analizzerò un Pokémon molto speciale, Blastoise Infatti avevo analizzato in due precedenti puntate Charizard e Venusaur e mi sembrava ingiusto lasciare Blastoise senza una degna analisi E quindi prima di concludere la rubrica ho voluto farlo Quindi iniziamo subito con la sua descrizione fisica Blastoise come le sue due pre-evoluzioni, Squirtor e Vortotola, le sembianze di una tartaruga bipede dal colore prevalentemente blu Ha un resistente guscio marrone da cui fuoriescono due potenti cannoni apparentemente metallici da cui spara forti getti d'acqua I cannoni possono essere ritirati all'interno del guscio ma anche spostati all'indietro così da sfruttarli come propulsori per gli spostamenti Blastoise in lotta usa anche la sua testa come arma, è molto robusta con piccole orecchie triangolari Le braccia di Blastoise sono molto grosse e robuste con delle strature E come Vortotola ha tre piccole dita affilate su entrambi gli arti superiori A differenza delle sue pre-evoluzioni in cui sono la parte pettorale del Pokémon in cui solo la parte pettorale del Pokémon è di colore chiaro In Blastoise anche la mandibola prende quel colore Non ha differenze tra stessi mentre le abilità speciali Blastoise è capace di sparare acqua dai suoi due cannoni con una velocità tale da perforare l'acciaio Con una precisione così elevata da colpire un barattolo a 50 metri di distanza Questo Pokémon è anche capace di apprendere mosse di tipo ghiaccio come geloraggio e bora Poiché Blastoise è al suo stadio evolutivo finale può utilizzare iperraggio e giga impatto Un'altra mossa importante che riesce ad usare è Rapigiro con cui può spazzare via dal suo percorso i nemici Ma anche punte e fiele punte e le rocce piazzate da levito roccia Pur non avendo l'acciaio come secondo tipo può prendere mosse come Cannon, Flash e Codacciaio Questa sua varietà di mosse aiuta Blastoise ad avere la meglio contro tipi che normalmente sono avvantaggiati sui tipi d'acqua come l'erba Il comportamento? Nonostante le sue dimensioni Blastoise è un Pokémon molto dolce e mansueto All'inizio può essere diffidente ma col tempo diverrà un ottimo alleato soprattutto in lotta Questo Pokémon generalmente assume il ruolo di leader nei gruppi formati da Squirtle e Wartotl Prima di usare i suoi potenti cannoni fissa saldamente i suoi piedi al suolo per resistere al contracolpo inferto Dalla forte pressione esercitata dai suoi getti d'acqua Si dice inoltre che Blastoise usi il suo pesante corpo come pressa per sconfiggere i nemici E vediamo l'habitat Come Wartotl Blastoise può vivere nelle spiagge di isole in prossimità dell'oceano Ma tuttavia gli piace anche trovarsi stagni e laghi d'acqua dolce Le apparizioni che applicazioni oggi è un po' così Ultima puntata, ultimo sforzo dai Lorenzo Le apparizioni principali nell'anime volevo dirlo Perché è una cosa che io ricordo da quando ero piccolo Cioè che apparteneva un Blastoise a Gary E in una delle puntate della Lega di Yoto Venne sconfitto in una epica battaglia dal Charizard di Ash Davvero molto bella quella lotta 6 contro 6 contro il suo rivale di sempre Gary Forse una delle più belle Ma adesso passiamo ad altri dati sul nostro Blastoise per l'appunto Vediamo le resistenze e le vulnerabilità È debole per 2x contro elettro ed erba Viene danneggiato normalmente da buio Coleottero, Drago, Folletto, Lotta, Normale, Psico, Roccia, Spettro, Terra, Veleno e Volante Resiste ad acciaio, acqua, fuoco e ghiaccio E non ha nessuna immunità Ommunità sto dicendo, non so come parlo Vediamo le evoluzioni La forma base è uno Squirtle di tipo Acqua Aumentando di livello al 16 si evolve in Wartotle di tipo Acqua Che aumentando a sua volta di livello Al livello al 36 si evolve in Blastoise anch'esso di tipo Acqua Le zone chiaramente sono assenti perché il Pokémon è l'evoluzione di uno Starter E ora vediamo le mosse All'inizio se usare Cannon, Flash azione, Colpo Coda, Bolla e Ritirata Al 4 impara Colpo Coda, al 7 bolla, al 10 ritirata, al 13 pistola acqua, al 16 morso, al 20 rapigiro Al 24 protezione, al 28 idropulsar, al 32 idroondata, al 39 capocciata, al 46 ferroscudo 57 pioggia danza, al 60 idropompa MT-MN solo quelle Stab Vi ricordo Ovvero La 55 idrovampata E solo quella praticamente Poi per l'MN, per quanto riguarda l'MN La 3 Surf, la 4 Forza, la 5 Cascata, la 6 Sub E la MT-94 Spaccaroccia Che una volta Ai tempi di quando Blastoise fece il suo debutto Era una MN Vediamo invece tramite accoppiamento Se il padre è un Golax, Sil, Dewon, Kabuto, Kaputops Dempoleon, scusate Weasel, Flotel, Tirtuga, Carracosta o Alomola Potrà imparare acquaggetto Se il padre è Sil, Dewon, Meri, Lazumari, Il Corso, La Mantine, Mailoti, Kant E il Time Pole, Palpitot, Semisto Daclet, Swan, Alomola Potrà imparare acquaggetto Potrà imparare invece acqua di sale Se il padre è Sil, Dewon, Gorsi, Sidra, Kindle, Lapras Oman, Thomas, Targore, Bisprim, Piplap, Primplap, Empoleon, Tirtuga, Carracosta, Alomola Bruciapello se il padre è l'ombro, Ludicolo Fraggello se il padre è Totodale, Crocon, Offer, Aligator, Fibas, Mailotic, Time Pole Palpitot, Semisto, Stankfisk Preleggenza se il padre è Manchi, Marston, Post, Swampert Nubi se il padre è l'hooper, Quexair, Suskitt, Mascherin Specchio velo se il padre è Corsola Nebbia se il padre è l'apras Quexair, Lottad, Lombra, Ludicolo Wingal, Pelipper, Suskitt, Mascherin Pipra, Primplap, Empoleon Snover ed Abomas Fraggello se il padre è l'hooper Quexair, Manchi, Marston, Swampert, Relicant Shellos Sia dell'estero e dell'ovest Gastrodon sia dell'estero e dell'ovest Stankfisk Fanghia se il padre è l'hooper, Quexair, Mascherin, Swampert, Shellos Sempre o'estest Gastrodon o'estest Time Pole, Palpitot, Semisto, Stankfisk Rinfrescata se il Lichitum, Lichilichicorso, Lomba, Elotic Zampillo solo nella quinta Però generazione Se il padre è Remoraid o Octillery Sbadiglio se il padre è Slowpoke, Slowbro, Slowking, Snorlax Whooper, Quexair, Kinder, Relicant, Bidoof o Bibare Abbiamo finito Bene bene, adesso le voci del Pokédex Il rosso è blu Pokémon brutale con getti d'acqua ad alta pressione nella corazza Usato per attacchi rapidi Giallo Dopo aver preso la mira colpisce il nemico con getti d'acqua più potenti di un idrante Oro Aumenta il suo peso per poter resistere al contraccolpo dei getti d'acqua che spara Argento I cannoni sul suo guscio sparano getti d'acqua capaci di bruciare l'acciaio In cristallo Punta i piedi saldamente al suolo per poi sparare getti d'acqua dal dorso Rubino e Zaffiro Blastoise è dotato di cannoni ad acqua che fuoriescono dalla corazza I getti emessi sono così precisi da riuscire a colpire un bersaglio Ad una distanza di 50 metri Ismeraldo I cannoni ad acqua che fuoriescono dalla corazza di Blastoise E mettono getti così precisi da riuscire a colpire una lattina A una distanza di 50 metri In rosso fuoco Mette capo gli avversari schiacciandoli sotto il corpo possente Se è in difficoltà può ritirarsi nella corazza In verde foglia Pokémon brutale che lancia getti d'acqua ad alta pressione dalla corazza Usato per attacchi rapidi In diamante perla e platino I getti d'acqua lanciati dai cannoni sul suo guscio Riescono a perforare perfino l'acciaio In Argold Aumenta il suo peso per poter resistere al contraccolpo dei getti d'acqua che spara In Sol Silver I cannoni sul suo guscio sparano getti d'acqua capaci di bruciare l'acciaio In Nero e Bianco I getti d'acqua lanciati dai cannoni sul suo guscio riescono a perforare persino l'acciaio I Demi Nero 2 E Bianco 2 Per quanto riguarda l'ultima parte ma non meno importante Lasciatemelo dire l'ultima volta che lo faccio Le statistiche naturalmente In PS a livello 100 al minimo 268 Al massimo 362 In attacco minimo 153 massimo 291 In difesa minimo 184 massimo 328 In attacco speciale minimo 157 massimo 295 In difesa speciale minimo 193 massimo 339 E infine in velocità minimo 144 massimo 280 Bene bene abbiamo finito Grazie a tutti ragazzi E ci vediamo tra poco con l'ultima parte dell'ultima puntata Di cominciamo bene A tra poco Bene Rieccoci insieme alla seconda parte di questa rubrica Ovvero Dite la vostra Oggi andrebbe un pochino rinominata Con Ditela mia Anzi Dico la mia Che ditela mia Infatti vi parlerò un pochino Io Per quanto riguarda questa rubrica Per quanto riguarda i progetti futuri E non solo Volevo fare questa piccola parentesi Alla fine di questo lungo percorso Che abbiamo fatto da giugno fino ad oggi Con questa rubrica Che voi avete apprezzato Chi un po' più Chi di più Chi sarà contento Invece Per al contrario La fine delle mie Lezioni di vita Tra virgolette Ovviamente scherzo Perché poi abbiamo fatto pace Anche con lui Con Emmanuel Tecla Che è diventato tra l'altro Uno degli assidui visitatori Del mio canale E' proprio così In fondo Che deve andare Certe volte Si litiga Ci si arrabbia A vicenda Magari perché Si ha un'incomprensione Un qualcosa E poi Subito dopo Lui mi ha chiesto Dovete fare insomma Un pochino come lui Perché mi ha chiesto Scusa E mi ha anche detto Che erano fantastici I miei video E quello che facevo E io sono andato In un brodo di giugiole No scherzo dai Ma Mi ha fatto piacere Che si sia reso conto Di Di ciò che ha fatto Ovvero Del suo errore E spero che Anche altri come lui Se ne rendano conto E invece di Continuare a scrivere insulti E fare in modo Che io li blocchi Dovrebbero Smetterla Prima Ecco tutto Comunque Fatta questa Piccola parentesi Parliamo un pochino Della rubrica In sé Volevo Soffermarmi Un pochino A parlare Di cominciare Bene Ma anzi Prima di fare questo Io direi Di iniziare Con i progetti futuri E concludere Con questa rubrica Facendo La scaletta Modificando un pochino La scaletta Secondo me Viene meglio Quindi parliamo Un pochino Di quello che farò Nel futuro Come vedete Sono impegnato Attualmente Nella let's play Di Super Paper Mario Poi Attualmente Le puntate Che voi state vedendo Se volete proprio saperlo Le ho registrate Il 27 luglio 2013 Quest'anno almeno Infatti Era vacanza E quindi avevo Molto Molto tempo libero E Quindi Fino Più o meno Alla parte 37 38 Insomma La parte in cui Si arriva al mondo Di su Sono tutte Parti registrate In estate Poi Da lì in poi Devo ancora Registrarle Tra l'altro Insomma Saranno Parti Registrate In inverno Quindi Più o meno In contemporanea Diciamo Forse Maybe Perhaps Farò Gli extra Ovvero Il labirinto Dei 100 livelli Sia di svolta Di qua Che di svolta Di là Quindi sarà Un suicidio Doppio Come Dico Sempre E Invece Per quanto riguarda Altre extra Come Le carte O Le ricette Credo proprio Che non li farò Anzi Praticamente Sono certo Di non farli Ma Questi sono extra Diciamo Sono gli extra Degli extra Il signore Alessandro Li chiama così Perché sono Ancora più Secondari Rispetto a quelli Che sono gli extra Quindi Non è che Siano inutili Però sono Lunghi Stancanti E dopo un po' Non ce la fai Veramente più E lasci l'opera In completa A metà Quindi A questo punto Meglio Non farli Direttamente Per quanto riguarda Pokémon XD La fine è ormai giunta Come vedete Siamo A meno Quattro parti Dalla Fine proprio Completa Sia il finale Che gli extra Infatti Anche una parte Del finale Più tre Extra Scusatemi E poi la guida Finita Completamente Per quanto invece Riguarda X E Y O meglio Y Che è quello Che abbiamo scelto Noi di fare Let's play Che come avete visto È stata votata Da voi Democraticamente Procederà Questa settimana Con 5 puntate Tutte Una di fila All'altra E poi sabato Riprenderò Sabato prossimo Non Visto che non ci sarà Questa rubrica Essendo Finita Con Anzi No Essendo finita È al passato Quindi Non si può dire Finendo Con la puntata Di oggi Così Va un pochino Meglio E quindi Secondo me Comunque La prossima Tutta questa settimana Sarà per voi Di certo Una gioia Vederci Io E il signor Alessandro Infatti Questo non ve l'abbiamo Detto Ma Credo Voi lo dobbiate Sapere Saremo In coppia A fare Questa Let's play Commentata In doppio Così viene qualcosa Di un pochino Più originale E un pochino Più carino Inizialmente L'idea Era quella Di fare Un Let's play Un po' particolare Diciamo così Nel senso che Io Avrei fatto X E il signor Alessandro Y In contemporanea Avremmo Esplorato I vari luoghi Della regione Eccetera Eccetera E secondo me Sarebbe venuta Pure una cosa carina Ma Purtroppo Alla fine Il progetto Non è andato in porto Dato che Abbiamo soltanto Una console Su cui registrare Quindi Non era Non era Fattibile Comprarne Addirittura Un'altra Ancora Per poterlo Fare Poi Avremmo dovuto Portarci Diecimila Computer Perché Per ogni Computer Corrisponde Un Apparecchio Appunto Un 3ds Poi Un altro Computer Ancora Per l'audio Quindi Capirete voi Che Era poco Fattibile Però Che dobbiamo Farci E Altri progetti Futuri Invece Che ho in mente Riguardano Purtroppo La primavera Di quest'anno Perché prima Non ne avrò Proprio La facoltà Magari Potrebbe esserci Qualcosa Giusto Per Natale Una Lexplay Speciale In una decina Di puntate Come Kirby's Adventure Per Il Nintendo NES Che io vi ho riproposto Per 3ds E che io vi ho proposto Ancora una volta Usiamo questo verbo A giugno Di quest'anno E Quindi Vedremo Quale Let's play Fare Ho in mente Qualche Cosa E sono Più o meno Quasi tutti i giochi Per Divisi tra Wii U Wii E Gamecube Queste tre console In particolare Per il Gamecube Ci sono Pochi giochi Interessanti Per questa console Ma Tutti Molto 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 Carini Basti Pensare a Colosseum XD Super Smash Bros Melee Poi abbiamo Mario Kart Dash Vabbè Poi Abbiamo Paper Mario Il portale Millenario Che è uno Di quelli Che è ancora Uno di quelli Papabili Chiamiamolo così Come let's play Anche se un pochettino Lunga Più lunga Di Super Paper Mario Quindi non so Se la farò E questo Insomma Ragazzi Per quanto riguarda Invece Questa rubrica E con questo Concludo Mi avvio Alla conclusione Vi volevo dire Qualche Quattro parole Allora Non saranno Le solite parole Le frasi Fratte Ma Le voglio dire Davvero col cuore Mi sono Divertito A fare Stare Quest'estate Magari I sabbati E le domeniche In cui non facevo nulla Stavo a casa Un po' così Anche se mi sono dovuto Svegliare presto Alle 8 del mattino Molte volte Per farli In tempo Mi sono comunque Molto divertito Perché Fare la puntata In particolare Del sabato Perché le notizie Io le adoro Davvero Commentarle Dire Quello che ne penso io È davvero Una cosa Davvero fantastica Anche questa parte stessa Dite la vostra Mi è piaciuto molto Rispondere ai vostri commenti Certi erano esilaranti Insomma Ne ho viste Di cotte e di crude Quest'estate Certo È stato Un pochino Stancante La cosa Nel senso che Fare due puntate Settimanali Tutte le settimane Poi quando Non ci stavo Le dovevo recuperare O fare un pochino Prima Quindi quella notizia Non c'era Ma quello così Insomma È stato Abbastanza difficile Ma ce l'abbiamo fatta Come dice la pubblicità Quindi Quest'estate L'ho dedicata A voi Con questa rubrica Tutti i weekend Le ho dedicate a voi Non credo che la prossima Sarà lo stesso Perché Ho visto che È stato Ve l'ho detto È stato un pochino Stancante E Quindi preferisco Magari Fare una let's play Estiva Più Rispetto Insomma A fare Un progetto Una rubrica Tipo questa Gli ascolti Come Si dice In ambito televisivo Ma Diciamo Più che altro Le visualizzazioni Sono stati Appaganti Sono state Appaganti Almeno per quanto Mi riguarda Poi Voi potete avere Un'opinione diversa Molti Magari scrivono Hai poche visualizzazioni Rispetto Agli iscritti Alle cose Ai video Che hai fatto Ma Vabbè ragazzi Io mi accontento Così Perché in fondo Voi già Mi dimostrate Molto affetto E quindi Io sono contento Per questo Comunque Credo che anche Questa esperienza Di fare 40 puntate Tutte io In 4 mesi Anzi 3 mesi Praticamente È stato anche Per me Come si dice A scuola Mi ha fatto Crescere No? Come diciamo Sempre Mi ha fatto Maturare Ma non Crescere Nel senso Di Altezza O di Peso Ma Mi ha fatto Crescere Nel senso Che adesso Sono anche Più abile Nell'uso Delle parole Nell'esprimermi Con gli altri In effetti Anche youtube Serve anche Un pochino A questo E infatti Vedi Sei più sciolto Dopo un po' Che inizi a Parlare E ad esempio Quando giochi A un videogioco E c'è un amico A fianco Parli E riesci a dialogare Con lui Nonostante si giochi Cosa che Prima Non riuscivo Proprio A fare Saranno cose Un pochino Stupide Ma è comunque Soprattutto La seconda No La prima È abbastanza Buona Come cosa Insomma Ma per me Sono cose Buone Che youtube Anche Ti insegna Insomma Anche magari A rapportarti Con Mondi diversi Culture Diverse Quindi Questa rubrica Termina Qui Io Non la Riproporrò Quasi sicuramente L'estate prossima Come vi ho detto Di rubriche nuove Purtroppo Quest'anno Non ce ne saranno Oltre a Sottovoce Che già vi ho presentato Per lo meno Per il 2013 Poi per i primi mesi Del 2014 Vedremo Ma Avevamo in mente Alcuni progetti Però sono Naufragati Purtroppo In particolare La rubrica Della domenica Che Io avevo in mente Di fare Una piccola Edicola Ma Purtroppo Proprio nel mese In cui Cioè Luglio In cui ho deciso Di farla Hanno chiuso La rivista ufficiale Nintendo Quindi Io Che riviste Analizzo Non ce ne stavano Di altre Quindi E' naufragata L'idea Purtroppo Certe volte Ed anche Le idee migliori Secondo me Sarebbe stata Bella Però Purtroppo Quindi Vi ringrazio Col cuore Come dice Barbara D'Ursa I suoi telespettatori Ah Pure quella Un'altra Ma Non Dilunghiamoci Troppo E Quindi Io vi do Appuntamento Con Super Paper Mario E con Pokemon Y Grazie per L'ascolto Un bacio Affettuoso E io Vi ringrazio Vi ringrazio Ancora Grazie per L'attenzione E alla prossima